Ciao a tutti amici di Poker Italia Web, benvenuti alla video recensione del Rush Poker Mobile disponibile da pochi giorni per iPad e iPhone. Come vedete siamo già nell'interfaccia del sito dal quale potete accedere dal normale browser dei vostri dispositivi e andiamo innanzitutto ad illustrare questa funzionalità. Allora, cliccando ad aggiungere home andiamo ad aggiungere l'icona del sito sulla Springboard. Diamo un nome, in questo caso Full Tilt Rush. Come vedete cliccando su aggiungi poi ci viene creata questa icona che peraltro ci ricorda anche che questa versione del software è ancora in fase beta. Quando noi andremo a cliccare di nuovo sull'icona appena creata, come vedete non passeremo più per Safari ma verrà direttamente caricata l'interfaccia di gioco. Andiamo a questo punto ad inserire i dati del nostro account. Andiamo a loggarci e veniamo catapultati nella prima schermata dell'applicazione. Come vedete abbiamo a disposizione tavoli Real Money e tavoli Play Money. Qua sotto, ora vi faccio vedere anche questa barra, abbiamo invece tutte le possibilità di configurazioni. Abbiamo la prima scheda che è Browse che appunto ci permette di vedere tutti i giochi disponibili. Andando a cliccare ad esempio su Real Money veniamo portati appunto alla scelta di tutti i possibili tavoli. Andiamo dai tavoli 2 e 4 fino a mi pare 0 2 e 0 5 esatto. Quindi non i miei 5. Disponibili sia Holdem che Omaa e Omaelo così come appunto nella lobby per PC. Andiamo poi a vedere un'altra scheda che è Cacher dal quale possiamo vedere appunto il nostro bilancio attuale per quanto riguarda l'account. Vedete i soldi attualmente disponibili sull'account e quelli in gioco. Da notare anche che abbiamo a disposizione il tasto Deposit anche se poi in realtà questa funzione non è ancora abilitata per quanto riguarda il software mobile. Tant'è che se proviamo a tappare sul bottone dedicato ci viene detto che fino a quando il software rimarrà in beta solamente dal client per PC o per Mac verrà garantita la possibilità di deposito. Nel pannello setting ovviamente abbiamo a disposizione alcune configurazioni per quanto riguarda invece la visualizzazione e l'utilizzo del programma. Andiamo da queste possibilità estetiche più che altro come Show Avatar o il mazzo a quattro colori oppure in questo caso le animazioni al tavolo. Chiaramente se ho utilizzato un dispositivo Apple di ultima generazione le animazioni saranno molto fluide. Non ho attualmente provato con dispositivi più datati ma credo che magari su ad esempio iPhone 3G sia più conveniente disabilitare le animazioni. Si può poi scegliere appunto la modalità di animazione, vedete che abbiamo a disposizione il fade, flip e spin. Noi adesso scegliamo spin visto che è l'ultima che mi rimane da vedere. Dopodiché abbiamo invece le varie modalità di utilizzo della barra delle puntate. Andiamo classica, lineare e esponenziale. In info vediamo i credit dell'applicazione, mentre invece l'ultimo pulsante sarà logout e appunto ovviamente avremo la possibilità di sloggarci dal nostro account. Ora andiamo a vedere invece un esempio in game. Ecco prima di accedere al tavolo vi ricordo che noi vi stiamo facendo vedere questa applicazione puramente a scopo dimostrativo in quanto come sapete Full Tilt Poker non è presente sul mercato.it e attualmente non si sa se quando Full Tilt entrerà porterà con sé anche il cash vista la regolamentazione italiana che è un po' nebulosa a riguardo. Per la dimostrazione andiamo ad occupare un tavolo 6 Max MicroStake 0205, quindi un Unlimi 5. Appunto cliccando su Join andiamo subito ad occupare il nostro tavolo. Come vedete la schermata e la reattività soprattutto dell'applicazione è alquanto buona. In questa finestra abbiamo la possibilità di scegliere le modalità di iscrizione al tavolo. Andiamo da un minimo di 2 euro ad un massimo di 5, scusate dollari, tutto selezionabile attraverso questo cursore che mi vedete toccare al momento. 5 dollari va in massimo, noi selezioniamo questo e andiamo a premere per iniziare la nostra partita. Come vedete il countdown è quello tipico del Rush Poker, ora vedete l'animazione che abbiamo scelto. veniamo subito volcati e quindi passiamo ad un altro tavolo. Questa è obiettivamente un'animazione leggermente fastidiosa, però va bene così. Come vedete iperreattiva l'applicazione, in alto a sinistra avete la possibilità di tenere sotto controllo la vostra connettività, specialmente nel momento in cui vi troviate in viaggio. Ora andiamo a trovare una mano giocabile per far vedere quello che è l'unico problema del software. Vedete abbiamo QQ in questo particolare spot, andiamo a fare un riraze, chiediamo tempo prima che ci scada, andiamo a rilanciare appunto a 31. per benissimo. Ora non guardiamo le size in quanto stiamo semplicemente cercando di dimostrare il programma. Andiamo a puntare, ed ecco qui potete vedere che appunto la barra delle puntate si sovrappone in un modo un po' caotico con il pot e il flop. Andiamo a puntare 50 su un piatto da 65, siamo usciti un po' lunghi. In ogni caso portiamo a casa il piatto. L'applicazione in sé per sé funziona quindi molto bene, dei primi risponsi possiamo anche notare che la batteria non viene intaccata particolarmente dal funzionamento appunto dell'applicazione. Quindi un ottimo modo per passare qualche ora in compagnia del poker quando siamo fuori casa. Direi che abbiamo analizzato tutto quanto. Io non posso fra l'altro che fondare anche questa mano, visto che l'ultima cosa che mi è rimasta da farvi vedere sarà appunto il modo per alzarsi. Si seleziona sì in questo caso, si gioca la mano in corso e dopodiché appunto verremo fatti alzare dal tavolo, quindi verremo messi in sit-out. In questo caso proviamo a trebettare questo raise da bottone, vediamo come va a finire questa mano, troviamo il fold del bottone e ci alziamo incredibilmente in attivo. Verrà aperto un thread apposito sul forum dove potrete postare eventuali altri dubbi in merito a questa funzionalità di Full Tilt Poker. Non mi resta che augurarvi buon divertimento ai tavoli e come sempre seguirci su pokeritaliaweb.org. Ciao a tutti ragazzi! Grazie! 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 Grazie!